Ciao a tutti! Come si innamorano gli uomini? È diverso da come potresti immaginare. Scopri ciò che fa innamorare gli uomini. Allora, in questo video voglio spiegarti come si innamorano gli uomini ed è un po' diverso da come potresti immaginare tu. E quindi è importante che tu impari a conoscere come si innamorano gli uomini per coinvolgerli, insomma. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notte che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra gli abbonamenti base per, diciamo, partecipare alle live e dare un sostegno al canale e l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. E adesso veniamo al tema. Come si innamorano gli uomini? Allora, beh, devi tenere presente intanto che ci sono delle cose naturali. Insomma, tutte le persone, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne, alla fine tutti vogliono essere felici, vogliono amare ed essere amati. Perché tutti noi abbiamo bisogno di interagire con delle persone, siamo esseri interdipendenti. Però gli uomini, diciamo, rispetto alle donne, si innamorano in modo un po' diverso. Quindi è importante che tu riesca a capire come si coinvolgono gli uomini per mettere in atto delle strategie che possono farli innamorare. Prima di tutto, però, devi tenere presente una cosa fondamentale che non devi accontentare, cioè devi mantenere alti i tuoi standard, cioè devi definire nella tua testa che tipo di stile di vita vuoi condurre da un punto di vista sentimentale, affettivo, e di conseguenza che tipo di uomo scartare e che tipo di uomo prendere in considerazione. Perché tieni presente che ci sono molti uomini che magari sono già impegnati in una relazione, quindi non è che gli va di trovare una relazione nuova, avere una storia nuova, ma quello che gli interessa principalmente è avere, come dire, un diversivo. Quindi questo devi tenerlo presente. E riesci facilmente a sgamare, insomma, di uomini che poi nei tuoi confronti non ti danno di fatto nulla. Questo riesci a scoprirlo abbastanza rapidamente, no? Se non sei ottusa, perché poi talvolta ci sono anche persone ottuse, cioè ottuse nel senso che non vogliono credere, no? Perché se una persona è impegnata, diciamo che i segnali sono abbastanza manifesti. Quindi una volta che tu hai capito esattamente il tipo di stile di vita che vuoi fare, questo è importante, devi cercare di fare una certa. Ecco, quello che tu devi fare fondamentalmente è metterti in gioco, cioè manifestarti. Oggi, come oggi, la manifestazione può avvenire prevalentemente nei social, oppure, diciamo, comunque tra persone che conosci. Tieni presente che c'è un qualcosa di diverso tra uomini e donne, cioè l'uomo, il primo flash, normalmente è visivo. Cioè l'uomo si innamora prima con gli occhi, diciamo così. La donna si innamora prima con i sentimenti, quando sente qualcosa dentro. Certo, non è detto che la donna se vede il mostro di Loch Ness, non è che ci vediamo che sentimenti mi procura, c'è anche quello. Però per l'uomo il flash tende ad innamorarsi di più con gli occhi, cioè tende ad essere attratto di più con gli occhi. Una volta che ha percepito, diciamo così, una sorta di attrazione da questo punto di vista, una sorta che, una volta che si è reso conto di aver, di provare, diciamo, attrazione, quello che può fare comunque è capire come gestire la situazione. Quindi devi innanzitutto presentarti come appetibile femminile, manifestarti. Questo è quello che devi fare. E poi aspettare che sia il maschio che in qualche modo faccia qualcosa nei tuoi confronti. Anche perché questa è un'altra caratteristica fondamentale degli uomini. Gli uomini hanno bisogno necessariamente di credere di aver saluto una donna, di credere di aver conquistato. Queste sono le regole del gioco naturali, diciamo così, sono regole del gioco istintuali e potremmo dire inciso probabilmente nel nostro DNA e comunque inciso in situazioni forti nella nostra mente. ovviamente gli uomini si innamorano prima, diciamo così, di ciò che vedono. E' ovvio che c'è poi una seconda parte, quindi vista l'attrazione, questo è il primo flash. Poi iniziano a ragionare, perché spesso gli uomini sono molto più, come dire, sono molto più iperlogici delle donne e rispondono in modo diverso agli stimoli, diciamo così. Cioè, l'amigdala, la parte del cervello, diciamo, che gestisce l'attivazione, si attiva da stimoli visivi, ma poi entra in gioco la neocorteccia e la neocorteccia, che è quella parte logico-razionale, ha bisogno di identificarti, di identificarti come una donna giusta. Quindi, nella seconda parte, una volta che è stimolata, se non stimola attrazione, non c'è niente da fare. Quindi, deve comunque identificarti come una persona giusta, potenzialmente che potrebbe andare bene per lui, che non gli può generare impegni. Ovviamente, tutto questo, quindi se tu vuoi una relazione, devi scartare subito quelli impegnati, quelli fidanzati, quelli con storia, cioè devi cercare di sgamare via più presto. Ho fatto diversi video su come sgamare quelli che sono impegnati, fidanzati, cose di questo genere. Perché se non li sgami, perché se non riesci a toglierti dei piedi, diciamo così, abbastanza facilmente, beh, sarà difficile poi riuscire a, diciamo, a far sì che loro lasciano la moglie, la compagna, diventa tutta una storia in salita, per cui non vale neanche la pena, non vale neanche la spesa mettere energie da questo punto di vista. Quindi questo è il primo passo fondamentale. Una volta che tu hai fatto questo, diciamo, devi farti percepire, dicevo, come simile, quindi condividere gli stessi valori, farti vedere, diciamo, detto in altri termini, come una donna che loro presenterebbero volentieri alla madre. E questa presentare alla madre è fondamentale. È uno dei, quando capisci che ti presentano alla madre, vuol dire che hanno fatto un salto quantico. E un'altra cosa fondamentale è quella che possono, in qualche modo, darti, diciamo, degli stimoli. tu puoi dare degli stimoli, questi stimoli devono essere stimoli appaganti, vuol dire che devi farti vedere come la donna giusta che ha gli stessi valori, le stesse credenze. Ecco, tutto questo fa sì che anche a livello cognitivo, diciamo, è coinvolto con te. E poi, ovviamente, per far veramente perdere la testa, però abbiamo già sdoganato l'aspetto istintivo, ovviamente, che non deve essere appagato subito sessualmente. Abbiamo sdoganato l'aspetto cognitivo e ci va l'aspetto emotivo, quindi devi produrre emozioni. Ho fatto tantissimi video su come produrre emozioni, quindi, diciamo, tenere presente che per produrre emozioni devi farli aprire, devi farli parlare, devi farli parlare delle loro sofferenze, di quello che hanno vissuto come sofferenze a livello di infanzia. Ecco, a quel punto lì c'è l'innamoramento e a quel punto lì faranno delle cose per te. Tu capirai che sei innamorato quando inizierai a investire su di te. Ti presenta la madre, ti presenti i genitori, fa una pianificazione, insomma, lo capisci dall'investimento che fa nei tuoi confronti. Ecco, queste sono un po' le fasi che devi portare avanti se tu vuoi ottenere dei risultati da questo punto di vista. Mi raccomando, tieni presente che il tutto deve avvenire o può avvenire soltanto se tu riesci a comportarti diciamo nel modo giusto senza bruciare le tappe. Cioè, nel senso che se la dai subito finita la fase di attrazione decade tutto perché non si può mettere in moto tutto il resto del meccanismo che come vedi è un meccanismo tutto sommato abbastanza complesso insomma. Comunque questo è il modo in cui gli uomini si innamorano. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale e l'abbonamento seminario online per partecipare al seminario online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!